Ciao a tutti e benvenuti in questo video rilassante. Indossate le cuffie, mi raccomando, immaginatevi di essere voi in questa spa a farvi coccolare magari dopo una lunga giornata di lavoro, una giornata di stress. Quindi adesso lasciatevi trasportare in un'isola deserta o meglio ancora, in uno chalet in montagna d'estate, anzi no, fra l'autunno e l'inverno, con le querce fuori, dove raccogliere ghiante e pacche, prendiamo questi due patufoli di controlli. Iniziamo. Un bel massaggino agli orecchi. all'altro. Mi raccomando, indossate le cuffie. Andiamo a sciogliere tutta la tensione dietro il collo, con i grattini, dietro il collo, dietro il collo. immaginate il posto più bello dove vorreste essere adesso. In questi dieci minuti con me vi trasporterò nel vostro paradiso, con quello che voi ritenete tale. immaginate il collo, con i grattini, con i grattini, con i grattini, con i grattini. niente e nessuno qui vi può disturbare. Niente e nessuno potrà rubarvi questo angolo di relax. lasciate ogni preoccupazione fuori, qualsiasi essa sia. In questi minuti dovete completamente staccare la spina da tutto ciò che vi da fastidio. iniziamo. 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 questa crema andiamo a prendere questa crema carezza anche a voi e adesso un masaggio io faccio un masaggio per relajarti per relajarti per relajarti cerci i occhi e relajarti relajarti molto e io escucha il sonido di mia voce e relajarti e anche relajarti 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 cerci i occhi relajarti 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 adesso scivola in un sonno sempre più profondo come sempre con l'augurio che domani sia il vostro giorno speciale speciale e un 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 un